they come magari accede da mamma io a barna a barna credo Ah, per 500 Hai giocato con Z Hai codo? No, non, con questo parliamo Ah, viene la si draghe Ma, non, con eclair, ma, non, con un feste Ma, ma, cei tremurati, cita Come, vediamo di là, buoni, con questo piepto Non morite Ah Ma, non con eclair, ma, dà un freddo con gel Non è gelato con il gel E ti prende Ah, da poi si gioca, anche di cursarmi, loro Azi dupo ce energetezi Suggi pula ca ai 11 anni Si comentezi tu la mine? Daca te intereseaza pe servo Sunt staff ca sa intelegi Sunt rupte bubble Varlitule Mi ha detto si am 18 anni E si frica sa vorbesc Si comentezi Bubble, Bubble Voi sa nu va pushi o veni la camera Grazie